E' stata una giornata davvero speciale e significativa per gli ospiti del centro di urno Una Speranza di Sala Consilina che lunedì scorso, 24 giugno, sono stati accolti presso la Caserma Davossa a Salerno che ospita il XIX Reggimento Cavalleggeri Guida fondato nel 1859 e che diede un importante contributo nel 1866 durante la Battaglia di Custoza della Terza Guerra d'Indipendenza alle truppe italiane. Nel 158esimo anniversario della Battaglia di Custosa, in cui le guide furono impegnate a Salerno si sono anche tenute le celebrazioni per ricordare la lunga storia del corpo iniziata 165 anni fa una cerimonia suggestiva che ha regalato grandi emozioni ed una giornata speciale agli ospiti del centro di urno Una Speranza che sono stati accolti con grande entusiasmo dal tenente colonnello Giuseppe Apone il cui impegno ha reso possibile la realizzazione del sogno per gli ospiti del centro di Sala Consilina accompagnati anche dall'assessore al Comune Salese Domenica Ferrari gli ospiti ed i referenti del centro Una Speranza hanno dunque assistito ad una serie di momenti suggestivi ed emozionanti che caratterizzano le parate ufficiali. Il racconto della giornata tra sfilate dei militari, fuochi tricolore, cavalli, la musica della banda militare che ha suonato l'inno di Mameli e le note di Osordato Innamorato non può che rassicurare sui momenti speciali vissuti dagli ospiti del centro grazie al tenente colonnello Apone che in collaborazione con i referenti del centro ha consentito la loro partecipazione e la presenza tra le personalità invitate all'evento celebrativo Agli ospiti salesi inoltre è stato anche concesso di trattenersi presso la caserma Davossa offrendo dunque loro la possibilità di visitarla per scattare foto e di partecipare anche ai festeggiamenti dopo la cerimonia Gli ospiti del centro salesi inoltre hanno condiviso la giornata anche con importanti personalità come il prefetto di Salerno Francesco Esposito che era presente alle celebrazioni in veste ufficiale di rappresentante del governo oltre che ad altre cariche civili e militari Grazie a tutti!